Ben trovati, benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale, come dicevamo nell'apertura parliamo di qualità dell'aria, è impietoso per il Piemonte Report che si chiama Maldaria che viene stilato ogni anno da Lega Ambiente, Asti e Alessandria sono i primi posti nella classifica in Piemonte anche se a fare peggio è Torino, la città che registra il primato appunto peggiore classificandosi in cima alla classifica italiana ma sentiamo di più da che tipo c'è L'emergenza smog nelle città italiane è un problema sempre più pressante, secondo il nuovo report di Lega Ambiente e Malari di città cambio di passo cercasi, redatto e pubblicato nell'ambito della Clean Cities Company i livelli di inquinamento atmosferico in molte città sono ancora troppo alti e lontani dai limiti normativi più stringenti previsti per il 2030 il report ha messo in evidenza i dati del 2022 nei capoluoghi di provincia sia per quanto riguarda i livelli delle polveri sottili che del biossido di azoto in sintesi infatti sono ben 29 città delle 95 monitorate che hanno superato gli attuali limiti normativi per gli sforamenti di PM10 con le centraline di Torino-Grassi che si piazza al primo posto con 98 giorni di sforamento seguita tra le altre anche d'Asti con 79 tra le 10 peggiori anche la città di Alessandria sempre per il PM10 l'analisi delle medie annuali ha mostrato come nessuna di esse abbia superato il limite previsto dalla normativa vigente ma ciò non è sufficiente per garantire la salute dei cittadini in considerazione delle raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e dei limiti previsti dalla nuova direttiva europea tra le città che devono lavorare di più per ridurre la loro concentrazione e adeguarsi ai nuovi target oltre a Torino ci sono anche Alessandria e Genova l'inquinamento atmosferico non è solo un problema ambientale ma anche sanitario di grande importanza dichiara Stefano Ciafani, presidente nazionale di Lega Ambiente in Europa è la prima causa di morte prematura dovuta a fattori ambientali e l'Italia regista un triste primato con più di 52.000 decessi annui Torino conserva il triste record nazionale di superamenti dei limiti consentiti per le micropolveri ed Asti sale sul podio al terzo posto è invece commentato Giorgio Prino che è presidente di Lega Ambiente Piemonte Valle d'Aosta questo non può essere il dato di partenza delle nostre analisi ancora detto dalle quali esce l'immagine di un Piemonte fortemente compromesso l'inquinamento sembra ormai essere assunto come ineludibile come una condizione non migliorabile eppure solo a Torino oltre 900 persone ogni anno perdono la vita in conseguenza proprio di una qualità dell'aria che è eufemistico definire pessima non si tratta di eventi episodici ma di una situazione strutturale che dunque richiede coraggio politico e soluzioni strutturali due uomini sono stati arrestati a Verona sabato scorso dalla polizia di Torino perché ritenuti gli autori di due tentati omicida e danni di due prostitute rumene le donne sarebbero state accoltellate la notte del 23 gennaio scorso in via Trino ed in via Biscarra da un libico e da un tunisino irregolari sul territorio nazionale i due avrebbero agito insieme nel tentativo di rapinare una delle due donne che ha tentato di fuggire ed è stata colpita all'addome e ora è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Molinette mentre il cittadino lipico avrebbe agito da solo nel corso del primo tentato omicidio addosso al tunisino è stato trovato un grosso coltello oltre che una somma di denaro ritenuta frutto di azioni delituose sono in corso le indagini della questura e della procura di Alessandria per stabilire le cause della morte dell'uomo trovato senza vita sabato sera nel suo appartamento di via San Pio V ad Alessandria sentiamo la storia da Cristiano Zanetto sarà l'autopsia a dire come è morto Mauro Manfrin trovato cadavere sabato notte nel suo appartamento di via San Pio V ad Alessandria l'uomo aveva 84 anni, viveva da solo e di suoi vicini da tempo non lo vedevano quando la polizia è entrata nel suo alloggio che si trova in una casa di ringhiera lo ha trovato sul pavimento riverso in una pozza di sangue nonostante i soccorsi immediati i sanitari non hanno potuto fare nulla i vicini dicono di non aver sentito alcun rumore strano o diverso dal solito polizia e procura di Alessandria sono al lavoro per stabilire che cosa abbia provocato la sua morte l'allarme era scattato poco dopo le 21 di sabato quando alcune persone che avevano le chiavi di casa di Mauro Manfrin forse per controllare che stesse bene dal momento che viveva solo sono entrati in casa e si sono trovati di fronte al corpo dell'amico riverso sul pavimento intervenuti i medici del 118 e le volanti della polizia oltre alla polizia investigativa, la squadra mobile, la scientifica ed anche il sostituto procuratore Francesco Bruzzone la salma ora è a disposizione dell'autorità giudiziaria Denunciato a piedi libero uno degli autori della rapina venuta ai danni di un negozio sportivo di via Carducci a Tortona si tratta di un giovane di 26 anni di origini marocchine senza fissa dimora e regolare sul territorio italiano già noto alla polizia per precedenti penali durante l'episodio l'uomo era insieme ad altri due complici che gli agenti stanno tuttora cercando Partenza difficile per la regione Piemonte per il nuovo sistema di ritiro dei farmaci in farmacia con la sola tessera sanitaria la procedura di registrazione del consenso non è così semplice e se non si vuole pagare 1,50 euro alla farmacia di riferimento serve lo speed o bisogna rivolgersi allo sportello dell'Asa ma ci racconta tutto Alessandro D'Araca dovrebbe essere facile, comodo e sicuro e invece il nuovo sistema che in regione Piemonte ha lo scopo di permettere all'utente di ritirare i medicinali in farmacia senza dover mostrare la ricetta su carta o su cellulare fatica a decollare perché alcuni passaggi relativi alla procedura stilata grazie ad un accordo tra la stessa regione e Federfarma Piemonte non sono per niente chiari né tanto meno semplici il sistema è ufficialmente operativo dal 25 gennaio scorso e ad oggi come riferito dal presidente di Federfarma Massimo Mana sono 800 su 1600 le farmacie piemontesi che hanno dato la loro disponibilità nello spiegare e ad aiutare il paziente a dare il proprio consenso affinché sia consultabile da parte del farmacista prescelto il fascicolo sanitario elettronico personale permettendogli così di visualizzare le prescrizioni e procedendo poi all'erogazione del farmaco naturalmente dopo che il medico di famiglia ha caricato la ricetta sulla piattaforma informatica in questa maniera era stato sottolineato in modo unanime dagli attori di questo nuovo servizio e dal presidente della regione Piemonte Alberto Cirio soprattutto chi non ha dimestichezza con la tecnologia e i telefonini potrà usufruire di questa piccola rivoluzione digitale senza scervellarsi tutto chiaro ma non troppo perché è venuto fuori e questo non aiuta appunto chi è a digiuno di web e app che certificare il cellulare non è sufficiente se non si scarica l'app di Piemonte Salute che si trova solo sul sito della regione Piemonte è questo un dettaglio che ha fatto emergere lo stesso presidente di Federfarma Piemonte sottolineando la lacuna comunicativa della regione il fatto è che la richiesta di conferma che il farmacista deve inviare sul cellulare certificato del paziente non arriva via sms ma sulla famosa app che il cittadino deve poi andare a confermare altrimenti non può ricevere i farmaci tramite la tessera sanitaria l'altra domanda che viene posta ai farmacisti è se è possibile fidelizzarsi con più farmacie anche questo passaggio ad oggi non è chiaro neanche i medici di famiglia non hanno ancora ricevuto alcuna comunicazione e di conseguenza non possono dare informazioni precise ai loro pazienti un work in progress che destabilizza prima di tutto l'utenza che come recita il volantino affisso nelle farmacie aderenti è invitata a chiedere ovviamente al proprio farmacista ma anche ai punti assistiti dell'ASL o andando sul sito www.salutepiemonte.it da qualche mese in Italia ormai caos passaporti i tempi per ottenerlo sono diventati lunghissimi per risolvere il problema le questure stamattina hanno messo a punto un nuovo piano personalizzato per ogni città per esempio a Torino si organizzano gli Open Day c'è stato il primo sabato scorso seguiranno poi quello del 25 febbraio 25 marzo, 22 aprile e 27 maggio ad Alessandria non ci saranno gli Open Day perché la questura ritiene di poter alleggerire il problema con più ore di apertura, più personale anche un giorno e più alla settimana per accedere all'ufficio passaporto non vediamo di più nel servizio Alla lista delle emergenze varie che si affrontano ogni giorno nel nostro paese adesso si aggiunge quella dei passaporti ci sono talmente tante richieste in tutta Italia che chi deve rinnovare il documento per fare un viaggio in un paese dove è necessario deve prima sottoporsi ad un altro viaggio molto difficile negli uffici o su internet dove però risulta quasi impossibile ottenere la prenotazione stamattina in quasi tutte le città italiane nelle prefetture o questure si sono riunite le varie autorità coinvolte nel rilascio del documento per maggiori aperture e facilitazioni l'ultima che era stata creata nei giorni scorsi ha toccato le città che hanno organizzato per sabato l'Open Day Passaporti in pratica ci si poteva recare senza appuntamento direttamente negli uffici della propria città mettersi in coda molto spesso insieme a centinaia di persone e anche fuori all'aperto e dopo qualche ora magari si sarebbe riusciti ad accedere all'ufficio passaporti è stato calcolato che per l'Open Day nella zona di Torino nelle 14 questure del territorio si sono presentate oltre 6.000 persone molte in coda già dalle 7 del mattino un vero e proprio assalto in Alessandria le autorità hanno deciso di non fare nessun Open Day ma ha deciso di intervenire subito potenziando il personale allo sportello e quello che deve supervisionare le pratiche inoltre ha allungato le ore di apertura e saranno aperte un giorno in più l'importante è che chi fa la richiesta prima vada sul sito a leggere con attenzione cose necessarie avere per il rilascio o il rinnovo del passaporto e quindi recarsi poi negli uffici già preparato una delle cause principali dell'aumento di queste richieste che ha mandato in tilt il sistema è stata la Brexit da quando non fa più parte dell'Europa per volare in Gran Bretagna non basta più la carta d'identità se pensiamo a quante persone turisti, studenti, lavoratori e viaggi occasionali settimanalmente per esempio si effettuano solo con la città di Londra si intuisce quanto e perché si è creato l'intesamento tra pochi mesi con il cambio di stagione le richieste si moltiplicheranno le agenzie di viaggio sono allarmate e aspettano interventi di riorganizzazione si spera naturalmente che il piano di emergenza messo a punto stamattina nei vari uffici italiani per smaltire la montagna di richieste possa funzionare davvero e adesso parliamo invece di un'altra emergenza dopo il Covid e dopo quello passaporto che avete sentito parliamo di alluvioni è stato intenso negli ultimi anni il lavoro svolto dai volontari della protezione civile un impegno apprezzato riconosciuto dalle istituzioni ed espresso con un momento di festa presso il teatro comunale di Ovada c'era per noi Fabrizio Mattano un dovuto riconoscimento a tanti volontari costantemente impegnati ad affrontare difficoltà che specialmente negli ultimi due anni fra pandemia da Covid e alluvioni non sono mancate sul territorio la festa della protezione civile svoltasi presso il teatro comunale Dino Crocco di Ovada è stato un momento organizzato per ringraziare chi si era adoperato per alleviare tanti problemi che hanno colpito la regione al comunale infatti c'erano amministratori regionali dall'assessore alla protezione civile Marco Gabusi ai colleghi Vittorio Appoggio e Marco Protopapa ma anche tanti sindaci gli eventi alluvionali degli scorsi anni durante i quali l'opera dei volontari della protezione civile è stata fondamentale sono stati rivissuti nei racconti dei primi cittadini di Ovada Paolo Lantero di Casteletto d'Orba Mario Pesce di Garesso Ferruccio Fazio e di tutti coloro che hanno operato in quei frangenti che poi sono sfilati sul palco del comunale introdotti da Maurizio Silvestri che per dare la loro testimonianza e ricevere il giusto riconoscimento questo è il vostro giorno di paga affermato il coordinatore provinciale Andrea Morchio quella del Covid è stata una battaglia fronteggiata senza alcuna esperienza è stata un'emergenza nuova rispetto a quelle che tutti noi abbiamo affrontato fino ad oggi questo però ha fatto uscire ancora una volta il vero volto del volontariato cioè fare quello di cui c'era bisogno il Covid ha continuato Morchio si è presentato nelle nostre vite all'inizio del 2020 quando avevamo appena chiuso l'emergenza alluvionale di Castelletto d'Orba e abbiamo affrontato anche alluvioni a Garessio e una ad Ovada nessun volontario si è mai tirato indietro le testimonianti dei sindaci di Garessio di Castelletto d'Orba e di Ovada e dell'assessore regionale Gabusi ci hanno fatto capire che la strada che stiamo percorrendo è quella giusta sicuramente non ci fermeremo qui i riconoscimenti sono andati anche la Repubblica assistente dalla Croce Rossa rappresentata dal Presidente Provinciale Marco Bologna fino alla Croce Verde Locale poi a tutti i gruppi locali della Protezione Civile la Protezione Civile ha sottolineato l'assessore regionale Gabusi è un insieme di persone, azioni e intenti che riescono a sconfiggere cose inimmaginabili il sindaco di Castelletto d'Orba Mario Pesce ha voluto sottolineare il tempismo e la rapidità negli interventi dei volontari mentre il sindaco di Ovada parlo l'antero l'importanza del lavoro svolto in sinergia fra tutte le istituzioni durante il pomeriggio nella piazza antistante al teatro comunale sono stati esposti i mezzi della colonna mobile impiegata nelle emergenze e sono numeri da capogiro per le ricadute economiche in Piemonte quelle dell'Eurovision Song Contest 2022 che si è tenuto la primavera scorsa a Torino i dati dell'indagine raccontano di 22,8 milioni di euro come movimento economico diretto 66 milioni tra spazi e contatti sui giornali e web l'assessore della cultura di Torino ha dichiarato che tra i quasi 130 mila turisti il 70% ha visitato almeno uno dei musei di Torino inoltre 25 mila sono stati download dalla guida a Torino Pocket Lonely Planet che hanno dimostrato che c'è un grande interesse per la città di Torino ma anche probabilmente per le città piemontesi in genere vediamo il servizio sono stati presentati i dati relativi all'impatto economico che ha avuto l'Eurovision Song Contest 2022 che si è tenuto a Torino nei primi 15 giorni di maggio dello scorso anno le ricadute economiche nel capoluogo della regione e nelle altre città del Piemonte sono state valutate in quasi 23 milioni di euro per la precisione 22,8 milioni ma oltre al denaro cash movimentato da coloro che hanno partecipato direttamente all'evento vanno aggiunti altri 66 milioni attribuibili agli oltre 9 mila articoli nazionali su stampa e web nel totale fa quasi 90 milioni di euro le persone coinvolte dall'evento Eurovision Song Contest 2022 sono state oltre 128 mila si è trattato per la maggior parte di giovani quasi il 20% dei partecipanti è arrivato da paesi esteri questi quindi in sintesi dati presentati a conclusione dell'indagine che ha svolto l'osservatorio culturale del Piemonte per conto della Camera di Commercio di Torino il presidente della Camera di Commercio Dario Gallina ha spiegato che i numeri confermano un successo che era già stato ampiamente percepito 22,8 milioni tra impatti diretti indiretti e indotti senza considerare l'enorme ricaduta mediatica valutata in oltre 66 milioni quest'ultima rappresenta un patrimonio particolarmente significativo perché l'immagine positiva e la credibilità conquistata da Torino hanno sicuramente una durata maggiore nel tempo il presidente della regione Cirio ha dichiarato questi dati sulle ricadute che l'Eurovision ha avuto sono la dimostrazione pratica del perché scegliamo di investire su grandi eventi come motore di turismo ed economia e come strumento per promuovere la bellezza e l'eccellenza del nostro territorio il presidente Cirio ha aggiunto per ottenere una copertura mediatica come quella che l'Eurovision ha portato al Piemonte sarebbe stata necessaria una campagna di comunicazione da decine di milioni di euro e lo dimostra anche il fatto che per avere visibilità durante l'evento di Torino altri paesi hanno acquistato spazi promozionali infine Rosanna Purchia assessora alla cultura della città di Torino ha dichiarato lo scambio delle chiavi simbolo dell'Eurovision Song Contest tra i due sindaci quello di Torino e quella di Liverpool rappresenta pieno lo spirito della rassegna che è anche quello di unire i paesi europei attraverso la musica favorendo un reciproco e fecondo scambio culturale parliamo di sport la Bertrand Basket Derton riesce finalmente a sfatare il tabù treviso riuscendo a sconfiggere la Nutribullet al quarto tentativo in due stagioni per un'importante vittoria esterna in Serie A col punteggio di 87-79 gli uomini di Marco Ramondino a cui vanno i complimenti hanno condotto il match fin dalle prime battute e tra poco con la pagina sportiva condotta da Fabrizio Mattana parleremo di calcio grazie a un gol realizzato negli ultimi minuti l'Alessandria ha battuto la Cararese e ha raggiunto una zona di classifica più tranquilla domani per i grigi ci sarà un nuovo impegno al Moccagatta contro i Rimini alle ore 18.30 dopo lo sport poi ci sarà il meteo grazie per l'attenzione arrivederci a